Ciao ragazzi, oggi vogliamo proporvi un'alternativa ai soliti aperitivi. Come sappiamo, moda, arte e cucina vanno di paio passo, per cui vogliamo darvi una soluzione facile da realizzare in casa e che tenga sotto controllo le calorie, ma senza rinunciare ad avere una cosa spiziosa e gustosa. Per accogliere i vostri amici la cosa migliore è quella di offrire un drink benvenuto e di accompagnarlo con una tartina ed è proprio quello che faremo oggi. Vi proponiamo come cocktail il Pink Martini, Martini perché è un classico e Pink perché è un tocco glamour, ci sia sempre. E come tartine per accompagnare il nostro drink faremo una New Generation Tartina. Partiamo dalla tartina. Gli ingredienti sono dei rapanelli, un formaggio tenero che può essere Philadelphia o Robiola, del salmone affumicato. Possiamo procedere e il rapanello sarà la base della nostra tartina. Tagliamo delle fettine sottili, non troppo sottili perché il rapanello sarà la base della tartina. Allora, dopo aver fatto la base con il rapanello, prendiamo del formaggio tenero e lo posizioniamo sulla tartina. Dopo aver messo il formaggio possiamo passare a concludere l'operazione prendendo il salmone e tagliandolo a pezzetti. Il salmone affumicato. Potete creare un rotolino. create quindi, come dicevamo, dei piccoli rotolini di salmone, posizionateli sul vostro rapanello. Se volete potete aiutarvi con uno stuzzicadente, adesso in casa non ne ho di particolarmente belli, ma potete decorarli chiaramente anche con delle foglioline di prezzemolo, a voi sfogo alla fantasia. Questo è il nostro risultato. Decorazione a piacere. Ora possiamo passare al cocktail. Vi proponiamo, come dicevamo, il Pink Martini. Il Pink Martini non è nient'altro che la versione light del Martini Royale. Questo cocktail infatti ha solo 90 calorie perché invece di usare il prosecco come nel normale cocktail utilizzeremo l'acqua frizzante. Gli ingredienti che ci servono per questo cocktail sono ovviamente martini rosè, acqua frizzante, arancia e limoni perché, come si sa, come vi spiego gli limoni, non lo fa nessuno, shaker e bicchiere da martini. Prendere l'arancia e il limone e tagliare a pette o a spicchi. Posizioniamo lo spicchio di limone e lo spicchio di arancia nel bicchiere. Noi abbiamo utilizzato un bicchiere da martini, si può utilizzare anche un bicchiere più ampio. Prendiamo il martini e lo versiamo nel bicchiere. Acqua, frizzante mi raccomando. Decoriamo e voilà una chicca che vogliamo farvi vedere. Abbiamo preparato con acqua e martini rosa anche dei piccoli pescetti di viaggio. Salute e al prossimo summer trip.